c'è gente questo ragazzi team di ciccio 26 26 ancora e sopra rimortarci vostra brutta storia brutta brutta dispiace un boc mi scliccato ragazzi mi serve una manuna mezza abbattuto non contro ciccio raga non c'ho mazzo vieni vieni ti do tutto si mi mazzo mi mazzo raga ho fatto un big fight contro ciccio gamer sto raga dobbiamo andare via io mi ho ucciso raga l'ho bloccato raga ho ucciso jure no raga mi hai dato la mano non hai capito non posso io sto scappando arrivo arrivo no no vai via te lo fai ciccio dai almeno lui io non ho molta di ali ho dato tutto dopo uno dettaglio e niente mezzo morto eh io lascia di pesci è morto via 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 sol è morto è morto dai morto ciccio no sono morto io però e c'hanno i pesci ci hanno tutto ottimo no 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 quanto ti mancava va bene dai non ce l'ha fatto non ce la faccio bro ma siamo vicenda al massimo ah c'è la testa a scheda credo credo la minchia lunga allora startiamo eccolo è un fortino qua eh è un po' stronzo sì sì un po' stronzo devo ammettere che è un po' stronzo è perchè non so bene come si collega il monitor cioè perchè poi il mio non è un monitor è una tele io ho capito che in queste battere così c'è sta nostro tre è quello che mi ha ucciso a me e che ha ucciso anche te calcolare che avevamo tipo due di vita che co non potrame vedere